Un uomo che svanisce come una scorreggia nel vento, lasciando soltanto qualche maledetta pietra davanti alla finestra e la foto di una puttanella sul muro. Questa è una cospirazione. Ecco che cos'è. Una maledetta cospirazione contro di me. E ci siete tutti dentro. Tutti, compresa lei. Nel 1966 Andy Dufresne evase dalla prigione di Shawshank. Di lui trovarono solo la divisa da prigioniero infangato, una saponetta e un vecchio martello da roccia ridotto ormai a un mozzicone. Ricordo di aver pensato che ci sarebbero voluti 600 anni per scavare un tunnel con quell'affare. Andy ci riuscì in meno di 20. Andy era appassionato di geologia. Credo che fosse per via della sua natura meticolosa. Le ere glaciali, le derive dei continenti. La geologia non è altro che lo studio della pressione e del tempo. Ed è tutto quello che ci vuole. Pressione e tempo. È un poster gigante, naturalmente. Come ho già detto, in prigione un uomo deve fare di tutto per tenere la mente occupata. Venne fuori che il passatempo preferito da Andy era spargere pezzetti del suo muro in cortile un po' alla volta. Su, sbrigati. Voglio andare a casa. Ho quasi finito, signore. Tre depositi da fare. Andy fece quello che gli ordinò Norton. Gli pulì le scarpe fino a farle brillare come specchi. Le guardie non si accorsero di niente. Io nemmeno. In fondo, pensateci bene, non capita spesso di osservare le scarpe di una persona. di un po' alla prossima. L'anima. Ma è. No. È. No. Ma è. Grazie a tutti. Andi andò incontro alla libertà strisciando per 500 metri in mezzo a liquami puzzolenti e schifosi. Strisciò per 500 metri. È la lunghezza di 5 campi di furbo. Mezzo chilometro di merda. Andi andò incontro alla libertà strisciando per 500 metri. Andi andò incontro alla libertà strisciando per 500 metri. più o meno all'ora in cui Rackle svelava il suo piccolo segreto, un uomo che nessuno aveva mai visto prima entrava nella Main National Bank. Fino a quel momento era solo un nome su alcuni documenti. La carta di identità, la patente di guida, il certificato di nascita, la tessera di previdenza sociale e la firma corrispondeva perfettamente. Devo dire che mi dispiace di perdere un cliente come lei. Spero che si troverà bene all'estero. La ringrazio. Lo spero anch'io. Ecco la distinta per l'incasso, signore. Ha bisogno di qualcos'altro? Per favore, può aggiungere questa alla posta in uscita? Con vero piacere. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Il signor Stevens visitò una decina di banche a Portland quella mattina. Alla fine si portò via qualcosa come 370.000 dollari, l'intero capitale accumulato da Norton. Caro direttore, aveva ragione. La salvezza è qui dentro. Norton non aveva alcuna intenzione di farsi prendere. Samuel Norton, abbiamo un mandato di cattura. Apre la porta. Norton! Non complichi le cose, Norton! Mi piace pensare che l'ultima cosa che gli passò per la testa, oltre al proiettile, sia stato il pensiero che Andy fosse riuscito a fregarlo senza che lui ne avesse mai avuto il minimo sospetto. Norton non aveva alcuna intenzione di farsi prendere. 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 Grazie a tutti.